Ciao a tutti, un fenomeno che si manifesta sempre più frequentemente è lo staging e cioè la relazione fantasma, quando il tuo partner non vuole, diciamo, vuole, non vuole, vuole nascondere la vostra relazione, non vuole renderla manifesta. State assieme da qualche settimana, ma a volte anche tempi più lunghi, addirittura da mesi e il partner non ha mai pubblicato una foto sui social di voi assieme, non ha mai, diciamo, o comunque si ha postato delle foto e le ha postate solamente in posizioni, diciamo, come potrebbero essere due amici, non ti ha presentato nessuno, diciamo, come la sua fidanzata o il suo fidanzato, insomma, vuole nascondere la relazione. Quali sono i motivi per cui una relazione, diciamo, il tuo partner non vuole rendere pubblica la relazione? Questo succede spesso alle donne, cioè gli uomini è un fatto più maschile, diciamo così, e infatti vivere una relazione fantasma non è certo, diciamo, il sogno di una donna, perché chi ama dovrebbe condividere, insomma, tutto della propria vita e soprattutto presentare il proprio partner agli amici, ai familiari e se non avere problemi è di uscire in pubblico, insomma. Alla base c'è sicuramente qualcosa che non funziona. Poi le persone ovviamente, diciamo, iniziano a pensare un po' di tutto, no? Si vergogna di me? Oppure avrà qualcun altro? Perché è ovvio che le cose vengono, si possono pensare completamente tutte. Beh, di certo c'è questo, che se un partner non ti presenta, sicuramente non ha voglia, diciamo, di rendere pubblica la relazione perché non... non... intanto perché non ha fiducia nella relazione stessa e poi molto probabilmente ci potrebbe essere un'altra persona di mezzo o comunque essere interessato ad avere un'altra persona, insomma. Quindi se non ti presenta è perché non tiene a te. Ora, un conto è se questo avviene, diciamo, nelle prime settimane, ci può anche stare. Però se questo si manifesta poi nel corso del tempo, è probabile che o c'è un'altra persona nella sua vita, oppure non ritiene che la sua relazione, che in questa relazione non ha fiducia in questa relazione e quindi non vuole far capire, soprattutto alle persone per lo importanti, che si è messo con te. Potrebbe temere il giudizio, ci può essere un timore del giudizio da parte, soprattutto in questo caso, da parte dei familiari, dei genitori, perché potrebbe pensare che per qualche motivo non va bene i familiari e i genitori, per età, per contesto sociale, per mille motivi. Sono motivi logico-razionali. Questo è, diciamo, uno dei motivi. Però quello più probabile, diciamo, è che comunque ci sia un'altra persona, un'altra persona a cui è fortemente interessato e a cui non vuole far capire che ha una relazione con te, insomma. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e sul mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti lascerò il link in descrizione. Ciao a tutti!